Stanno arrivando a un punto che siamo arrivati tutti sceriffi dentro le strutture pubbliche, non ci stanno gli interlocutori e non mi rivolgo solo alla politica, ma mi rivolgo pure all'interno delle strutture. Non fate gli sceriffi, state facendo gli sceriffi con le imprese, questo è il vero dramma. Costi di gestione alle stelle, mentre pochi sono quelli che consumano. I commercianti sono furiosi. Dopo due anni nefasti per gli esercizi, adesso la stangata sulle bollette. In questo piccolo bar del centro di Pescara è arrivata una bolletta dell'elettricità di oltre 17 mila euro per circa sette mesi. Ci illumineremo con le candele, la provocazione del titolare. Questa è l'alternativa. O le istituzioni ci vengono incontro con qualche provvedimento che ci consenta di andare avanti, di fare la nostra attività, perché i locali pubblici sono gli occhi della città. Il controllo del Green Pass sia perlomeno a campione, chiede Confcommercio. Intervengano da Roma oppure chiuderemo. Il caro bollette non è soltanto uno slogan, ma in realtà questo bar di 60 metri quadri è arrivata una bolletta di 17 mila euro, con IVA al 22%, di cui noi diciamo da anni che l'IVA deve essere portata al 10%, con tutte le accise e tutto il resto. Lo Green Pass è diventato uno stress per chi entra, quindi non può essere che il titolare debba mettere i bodyguard per controllare il Green Pass. E poi stiamo riprendendo, ci stiamo riprendendo da una pandemia che è durata due anni di chiusura e forzate. Le uniche attività che tengono ancora in piedi un po' di socialità sono i bar, i ristoranti e poi tutto quello che è l'intrattenimento. Chiaramente stiamo passando un brutto, non brutto periodo. Stiamo arrivando alla chiusura totale. Questo è l'obiettivo e questo è l'obiettivo. Secondo me qualche obiettivo politico ci sta. Ad ascoltare il grido di rabbia dei commercianti, anche l'assessore cremonese, non possiamo sospendere ancora le tasse comunali, ha detto l'esponente dell'amministrazione. Le imposte comunali, come sapete, non sono sospendibili. Tra l'altro il Comune di Pescara è un comune che è bersa in predissesso, quindi ha un piano finanziario che deve rispettare. La questione delle tasse è una questione che da sempre deve essere riversata sul governo centrale. E se le tasse non possono essere sospese, perlomeno consentiteci di allargare i deor e gli spazi esterni, la risposta di Confcommercio. Mo' ti prenderai una bella denica, io ti do una mano, ma se ti immagini questi regolamenti ti li puoi scordare la mano. Perlomeno, 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 perlomeno.